Sanità a pagamento, le prestazioni sanitarie già a febbraio per il provvedimento del commissario Polimeni, il comitato curo intanto incontra il subcommissario Longo. Banca Montepruno, approvato il bilancio 2015, ancora dati record, si conferma l'istituto di credito è in grado di creare reddito e valore. Por Campania Fers 2007-2013, 90 milioni di euro per le rete fognare della provincia sud di Salerno. Teggiano, questa mattina ha presentato il progetto protetto rifugiato a casa mia. Sassano, domenica prossima, 7 febbraio, la festa di carnevale. Buongiorno, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'Euno News. In primo piano la sanità, un provvedimento del commissario Giuseppe Polimeni rischia di portare il pagamento delle prestazioni sanitarie già nel mese di febbraio e riproporre questa funzione ciclicamente ogni mese. Operatori del settore pronti sul piede di guerra e potrebbero avere presto anche richieste di chiarimenti al governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Un provvedimento firmato dal commissario ad acta per la sanità campana Giuseppe Polimeni potrebbe creare nuovi problemi nel sistema sanitario campano che potrebbe già dalla fine di febbraio imporre ai cittadini pazienti di pagare le prestazioni. In sostanza questo provvedimento, firmato anche dal subcommissario Claudio Damario e inviato ai commissari straordinari e ai direttori delle aziende sanitarie locali, stabilisce tetti di spesa per il 2016 e una nuova suddivisione delle risorse con il budget annuale suddiviso nelle singole strutture in base al fatturato del 2014 su base mensile. In pratica cosa potrà accadere? Un centro che ha sforato il tetto di spesa per quella mensilità sarà costretto a far pagare le prestazioni agli utenti, sistema che potrebbe riproporsi ciclicamente ogni 30 giorni. Tuttavia sono diverse le criticità, non tutti i centri toccheranno il tetto loro riservato nello stesso periodo e l'imposizione del tetto di spesa che si rifà al fatturato del 2014 penalizzerebbe i privati che hanno fatto forti investimenti nel 2015 e che si troverebbero a dover anticipare ogni mese quello che generalmente accade da settembre di ogni anno. Un problema non di poco conto con gli operatori del settore pronti a dare battaglia e ad avere un confronto con il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, che nell'ultima campagna elettorale aveva posto la sanità al centro della propria azione con particolare riferimento all'eliminazione dei tetti di spesa. E non è da escludere che proprio De Luca si troverà sul tavolo questa vicenda a cui dovrà trovare una rapida soluzione. Restando in tema di sanità, martedì scorso il Comitato Curo ha incontrato il subcommissario dell'ASL di Salerno Giuseppe Longo per discutere del futuro dell'ospedale Luigi Curto di Polla e in generale del servizio sanitario nel Vallo di Diano. Il subcommissario ha manifestato alcune ipotesi che il Comitato però non ha ritenuto idonee. Si attende intanto la visita prevista nei prossimi giorni. Il Comitato Curo, Comitato Uniti per la Rinascita dell'ospedale, continua nel suo impegno a tutela dell'ospedale Luigi Curto di Polla e del servizio sanitario sul territorio. Dopo un lungo periodo che ha visto i volontari impegnati nella raccolta firme in diversi comuni del Vallo di Diano e non solo, nei giorni scorsi alcuni esponenti del Comitato hanno avuto la possibilità di incontrare il subcommissario dell'ASL di Salerno Giuseppe Longo a cui sono state esposte le problematiche che interessano in primis il presidio ospedaliero e quindi l'assistenza sanitaria in generale per tutti i cittadini valdianesi e delle aree limitrofe. Martedì scorso, durante il colloquio, i volontari del Comitato hanno espresso con forza la volontà dei cittadini valdianesi di difendere il loro diritto alla salute, forte anche delle numerose firme raccolte nel corso della loro campagna e ancora più della forte volontà di difendere l'ospedale di Polla, evidenziando anche l'importanza del presidio, vista la peculiarità del territorio e della stessa struttura ospedaliera che lo avvicina ad un ospedale di frontiera visto l'utilizzo anche da parte di utenti provenienti dalla vicina Basilicata e addirittura dalla Calabria. Il Comitato ha anche chiesto al subcommissario quale sia l'orientamento in termini di servizio sanitario da parte degli enti preposti e soprattutto quale ruolo avrà l'ospedale di Polla nella futura programmazione del servizio sanitario. Il Dottor Longo ha precisato l'intenzione di investire nei territori su un buon servizio ambulatoriale per evitare ricoveri inutili, ipotizzando la gestione delle emergenze tramite l'ambulanza. A queste ipotesi rappresentati del Comitato Curo hanno espresso la loro contrarietà date le criticità ambientali del territorio e hanno riportato l'esempio emblematico dell'incidente che ha convolto in passato proprio l'ambulanza, determinando la morte di quattro passeggeri, medico, infermiere, paziente e pilota esperto della zona. Nel corso del colloquio, fanno sapere dal Comitato Curo, sono stati evidenziati anche i tempi di percorrenza tra l'ospedale di Polla e le altre strutture ospedaliere, il che ha fatto emergere l'incompatibilità evidente con l'ospedale di Vallo della Lucania, vicino soltanto alla cartina geografica, mentre la mobilità si fa più logica e veloce con Salerno, Battipaglia, Eboli e Potenza, sempre grazie alla rete autostradale. Il subcommissario, sottolineano, ha comunque assicurato che la programmazione si farà solo dopo aver visitato i territori. Secondo quanto emerso, sembra che dopo la visita dell'ospedale di Sapri, da cui è iniziato il suo tour tra gli ospedali salernitani, il dottor Longo proseguirà nei prossimi giorni in tutti i presidi. Manca ancora una data per la visita dell'ospedale Luigi Curto, spiegano dal Comitato Curo, ma il dottor Longo ha promesso che insieme ai sindaci del Vallo di Diano saranno invitate anche i membri del Comitato. Sarà quindi un'altra opportunità per esporre con forza le esigenze dei cittadini del territorio e lottare per l'affermazione di una struttura ospedaliera depotenziata da troppo tempo. Ed ora la cronaca. Nella giornata di ieri i militari della compagnia di Sala Consilina hanno arrestato e condotto presso la casa circondariale di Salerno un cittadino marocchino domiciliato teggiano di 34 anni. L'uomo già arrestato la scorsa settimana per il reato di evasione. In virtù proprio di quest'ultimo episodio ha avuto un aggravamento della pena e si troverà a dover scontare diversi anni di reclusione per furto e lesioni personali commessi negli anni passati nelle province di Salerno e di Napoli. Cambiamo argomento. Ieri sera l'approvazione del bilancio 2015 della Banca Montepruno da parte del Consiglio di Amministrazione. Ancora un anno con dati record che vede l'Istituto di Credito superare se stesso facendo registrare anche nell'anno appena trascorso numeri impressionanti in termini di crescita confermandosi l'Istituto di Credito in grado di generare e creare reddito e valore rispondendo positivamente alla fiducia dei clienti riposta nell'Istituto di Credito diretto da Michele Albanese. Cresce non di poco la Banca Montepruno con numeri che oggi più che mai fanno impallidire anche banche nazionali. In un anno in cui la crisi delle banche era spesso monitorata una piccola banca di credito cooperativo che lavora nel territorio del sud Italia ha dimostrato a tutti quanto la fiducia dei clienti nell'Istituto di Credito in chi vi lavora è importante. Archiviato l'anno 2015 è tempo di primi bilanci e i numeri presentati sono ancora una volta di tutto rispetto con una chiara dimostrazione non soltanto della grande solidità dell'Istituto di Credito ma anche e soprattutto del clima di fiducia che intorno alla Banca Montepruno si respira. Il bilancio 2013 aveva fatto già registrare numeri da record nonostante un periodo di crisi economica forte ma gli anni successivi non sono stati da meno ed hanno regalato all'Istituto di Credito diretto da Michele Albanese ancora numeri non soltanto positivi ma a dir poco eccezionali. Cresce del 16% la raccolta totale con un incremento che supera abbondantemente i 55 milioni in più rispetto al 2014 altro anno che aveva prodotto numeri da record per la Banca Montepruno. Aumentano anche gli impieghi che da 223 milioni del 2014 toccano i 241 milioni nel 2015 con un incremento percentuale dell'8%. Utile lordo e utile netto indeciso aumento facendo registrare un incremento superiore di 2 milioni di euro. Pur nelle difficoltà del periodo storico che si sta vivendo soprattutto in Italia dal punto di vista economico e ancor più in fatto di fiducia nelle banche, l'Istituto di Credito di Roscigno ancora una volta va in netta controtendenza. Dati economici e patrimoniali in crescita più degli altri anni. Valori record per la storia della Banca Montepruno che si conferma un istituto in grado di creare reddito e valore. Una banca caratterizzata da ottimi indici di solidità a livello patrimoniale e da una qualità del credito di primo livello. Il confronto con i dati del sistema bancario italiano mettono i valori della Banca Montepruno su percentuali nettamente inferiori a testimonianza di una gestione sempre oculata e qualificata nel pieno rispetto degli equilibri. Un'azienda solida, virtuosa ed evoluta con un patrimonio aziendale che da 34.777.000 euro passa a 39.312.000 euro, quasi 5 milioni in più rispetto al 2014 con un incremento del 12%. Significativo poi il dato delle sofferenze. Mentre il dato relativo delle banche di tutta Italia fa registrare una media delle sofferenze lorde sugli impieghi a luglio 2015 del 10,3% per la Banca Montepruno il dato è notevolmente inferiore con una differenza di circa 6 punti percentuali in meno. A dicembre 2015 infatti l'istituto di credito diretto da Michele Albanese ha fatto registrare in termini di sofferenze lorde impieghi un 4,4% ben al di sotto del dato nazionale. Risultati che oltre a mostrare la solidità dell'istituto di credito fanno anche comprendere bene quanto clienti e territorio in generale si fidi dell'istituto di credito diretto da Albanese e di quanti in essi lavorano, dedicando attenzione e ascolto alle esigenze della propria clientela che di contro, rivolgendosi alla Banca Montepruno, riescono a trovare quel sostegno di cui necessitano. Cambiamo pagina grazie ai fondi POR Campania 2007-2013 diversi comuni della provincia sud di Salerno sono beneficiari di ingenti somme per i lavori di ampliamento, adeguamento e razionalizzazione della rete fognaria, tra questi anche Teggiano che ha ottenuto un finanziamento da oltre 3 milioni di euro secondo soltanto quello da 9 milioni e mezzo di euro per il comune di Camerota. Sono circa 90 milioni di euro di fondi stanziati per diversi comuni della provincia di Salerno nell'ambito del POR Campania FERS 2007-2013 destinati all'ampliamento, adeguamento e realizzazione della rete fognaria. 3 milioni e 754 mila euro per il completamento del collettore fognario nel territorio comunale di Teggiano, 3 milioni e mezzo per il progetto nel comune di Casella in Pittari, 1 milione e 300 mila euro per il comune di Atena Lucana, 1 milione e 74 mila euro per il comune di Montessano sulla Marcellana, 1 milione e 125 mila euro per il comune di Polla e 787 mila euro per il comune di Auletta. Si tratta di importanti finanziamenti per i comuni del territorio che potranno così completare le opere di ampliamento e adeguamento e realizzazione della rete fognaria. Un corposo finanziamento soprattutto per il comune di Teggiano che per entità è stato secondo soltanto al comune di Camerota che ha ottenuto un finanziamento da 9 milioni e mezzo di euro per la realizzazione del sistema depurativo e fognario della frazione marina di Camerota e Lentiscosa con riutilizzo delle acque depurate e per la realizzazione dell'impianto di depurazione del sistema di collettamento delle acque reflu al depuratore, fondi che permetteranno ai singoli comuni di dotarsi di un sistema funzionante ed efficace. Parliamo ora di scuola. Il prossimo 22 febbraio scade il termine per le iscrizioni agli istituti di istruzione superiore. La stessa data però è valida anche per coloro che dovranno effettuare la prima iscrizione per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e per le altre scuole del primo ciclo. Le modalità di presentazione della domanda sono diverse da scuola a scuola e noi ne abbiamo parlato anche con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Teggiano, Salvatore Gallo. Le iscrizioni al prossimo anno scolastico restano sempre in primo piano. Gli open day degli istituti di istruzione superiore in questi giorni stanno offrendo agli studenti valdianesi la gamma dell'offerta formativa in programma per l'anno scolastico 2015-2016. Ma a breve scadranno anche i termini per le iscrizioni alle scuole del primo ciclo e alla scuola dell'infanzia. Con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Teggiano, Salvatore Gallo, abbiamo tracciato i termini e modalità di iscrizione online e cartacee in riferimento proprio alle scuole del primo ciclo e alle scuole dell'infanzia. I tempi sono a partire dal 22 gennaio al 22 febbraio, quindi siamo già nella fase di avvio delle iscrizioni che termineranno il prossimo 22 febbraio. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia ancora le modalità sono cartacee e le mamme, i genitori interessati che hanno bambini che combiano i tre anni entro il 31 dicembre di quest'anno, oppure li combiano entro il 30 aprile del 2017, possono iscrivere i propri figli alla scuola dell'infanzia presso gli istituti del proprio territorio, recandosi presso la scuola laddove sarà dato un modulo cartaceo che combinato poi varrà come iscrizione. Per quanto riguarda invece la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e secondo grado invece, l'iscrizione avviene fatta online. In effetti i genitori entro a partire dal 15 gennaio dovevano registrarsi sul sito del ministero sulla piattaforma istanza online e dopodiché dal 22 gennaio al 22 febbraio possono operare le iscrizioni. Naturalmente se ci sono delle difficoltà nell'uso del computer oppure sono sprovvisti, si possono regare presso le scuole di competenza del proprio territorio e naturalmente presso le scuole troveranno tutto il supporto possibile per fare l'iscrizione. Si possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che combiano i sei anni entro il 31 dicembre di quest'anno oppure quelli che li combiano entro il 30 aprile dell'anno prossimo, i cosiddetti anticipatari. Per quanto riguarda la scuola media invece si possono iscrivere i ragazzi che quest'anno frequentano la quinta elementare e l'anno prossimo sono ammessi alla classe successiva. Per quanto riguarda invece gli alunni della scuola media si possono iscrivere alla scuola superiore già in questo periodo, naturalmente la conferma poi va fatta a luglio se avranno superato l'esame di licenza media. Diciamo che il momento delle iscrizioni è un momento molto molto importante ma soprattutto ritengo per quelle famiglie che hanno bambini piccoli a partire da due anni e mezzo ai tre anni, i quali probabilmente non sono informati che in questo momento bisogna fare le iscrizioni, mentre già chi frequenta la scuola primaria o la scuola materna già è informata all'interno della scuola. Per cui il mio invito è rivolto soprattutto alle famiglie che tengono questi bambini piccoli e che vogliono che dal primo settembre debbano frequentare la scuola dell'infanzia o la cosiddetta scuola scuola materna. La Caritas di Teggiano Policastro ha aderito al progetto della Caritas italiana dal titolo protetto rifugiato a casa mia, l'iniziativa che vedrà nei prossimi sei mesi dieci rifugiati essere accolti da dieci famiglie appartenenti alla diocesi di Teggiano Policastro, un progetto che è stato presentato questa mattina appunto presso la Curia Vescovile. È stato presentato questa mattina presso la Curia Vescovile a Teggiano della diocesi di Teggiano Policastro il progetto rifugiato a casa mia che vedrà nei prossimi sei mesi dieci rifugiati essere accolti da altrettante famiglie del territorio della diocesi di Teggiano Policastro, un progetto che è stato portato avanti e messo in campo dalla Caritas nazionale e che punta ad accompagnare le persone a diventare autonome e soprattutto ad inserirsi gradualmente nel contesto sociale. Alla presentazione del progetto c'era anche il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca. Questo è un altro progetto indetto dalla CEI rifugiato a casa mia. A poche settimane dell'apertura del Giubileo, Papa Francesco ha invitato le famiglie, gli istituti religiosi, le parrocchie ad accogliere un rifugiato per permettere un percorso di integrazione e di condivisione e così anche noi come diocesi di Teggiano Policastro già aperti a questo tipo di esperienza l'abbiamo supportato, incrementato con la disponibilità di alcune famiglie e questo progetto è ancora una volta un'espressione di una cultura aperta alla solidarietà, all'accoglienza e all'incontro. Il comunicato stampa che questa mattina faremo serve proprio per arrivare a tutte le famiglie della nostra diocesi e permettere di far conoscere questo progetto che Caritas Italiana ha indetto e che noi come Caritas Diocesana ne abbiamo risposto dando la disponibilità con 10 unità di accoglienza e permettere quindi alle famiglie di conoscere questo progetto e di aderire a questo tale progetto. Noi come Caritas Diocesana abbiamo aderito al progetto di Caritas Italiana, sono stata individuata come coordinatrice quindi faremo la ricerca di 10 famiglie che si proporranno oppure di conoscenza nell'ambito, nei vari ambiti della società con la ricerca di altri 10 soggetti o famiglie di persone migranti che abbiano però già uno status definito perché il progetto vuole tendere proprio ad una integrazione, ad un'accoglienza sul territorio e quindi sul substrato proprio della nostra zona. Questa sera vi ricordo ci sarà un nuovo appuntamento con l'Angolo Cusati, il programma condotto e ideato da Pietro Cusati, ospite di questa puntata dell'Angolo direttamente da Salerno Giusi De Paola, autrice del libro Angeli e Stalker nel quale ha voluto raccontare la storia, la sua personale storia di una donna vittima di Stalker. Con questa notizia noi intanto chiudiamo la prima parte delle Uno News, ci vediamo dopo la pubblicità per la seconda parte. Seconda parte dell'edizione pomeridiana delle Uno News, riapriamo con gli eventi e in programma domani sera la terza serata della ventesima edizione di Teatro in Sala, la manifestazione organizzata dai ragazzi di San Rocco con il contributo della Banca Montepruno e il patrocinio del Comune di Sala con Silina. Sul palco la compagnia teatrale Il Dialogo di Cimitile. Dopo il successo delle prime due serate, l'ultima la settimana scorsa con l'esibizione della compagnia teatro stabile Nisseno di Caltanissette, la pièce L'Arte della Beffa, torna domani sera la ventesima edizione della rassegna teatrale Teatro in Sala, organizzata dall'associazione i ragazzi di San Rocco con il contributo e sostegno della Banca Montepruno e il patrocinio del Comune di Sala con Silina. Seconda compagnia in gara è la compagnia teatrale Il Dialogo di Cimitile con la pièce Io non ti pago. A presentarci la serata in programma domani sera è il presidente dell'associazione i ragazzi di San Rocco, Stefano Cava. Abbiamo una compagnia di Napoli, Il Dialogo, che porta in scena Il non ti pago di Edoardo De Filippo. Anche volendo omaggiare la famiglia De Filippo per il lutto che abbiamo avuto a novembre e quindi abbiamo cercato di far venire anche questa compagnia che portava appunto un'opera della famiglia De Filippo. Come un'opera molto conosciuta parla di un gestore di una ricevitoria dell'otto che ha a che fare poi con il suo dipendente, tutti e due col vizio del gioco, però l'uno è il gestore sfortunato e invece il dipendente riesce a vincere più volte e quindi si creano varie situazioni particolari di quest'opera. De Filippo ricorda quest'opera come un'opera molto triste però che allo stesso tempo fa ridere a tutti quanti, quindi è una cosa simpatica e ricordiamo così quest'opera. Ricordiamo l'orario? L'orario è come sempre per gli appuntamenti del Teatrali alle 21 di tutti i venerdì. E ormai è tutto pronto per il Carnevale che sarà festeggiato in diverse piazze del Vallo di Diano. Anche Sassano si prepara a celebrare questa importante ricorrenza, infatti domenica 7 gennaio la Proloco di Sassano, l'Associazione Settembre al Borgo e il gruppo teatrale Pasquale Petrizzo ha organizzato la festa di Carnevale. Il raduno è previsto alle 15.30 presso le scuole elementari Giovanni Falcone e con la sfilata che si concluderà in piazza Umberto I dove ci saranno giochi, animazioni, truccabimbi e tuttanta musica per divertirsi insieme. Di questa importante iniziativa ne abbiamo parlato con il presidente della Proloco di Sassano Franco Biancamano. Noi come al solito, come ogni anno, stiamo organizzando il Carnevale per il 2016. E' una continuazione di moltissimi anni che noi a Sassano stiamo riproponendo questo spettacolo, chiamiamolo spettacolo. Anche perché già per i bambini si fa, diciamo, poco nel senso buono della parola che è in un arco di un anno. Allora noi ripetiamo ogni anno questa manifestazione soprattutto per i bambini e non bambini, cioè per tutti. E quindi anche un motivo di incontro per tutti, per le famiglie, per i bambini, per stare insieme e per socializzare. Questa manifestazione chiaramente non è organizzata solo dalla Proloco, ma bensì che anche il comune che partecipa, soprattutto il comune, come al solito ci invoglia a organizzare questi tipi di manifestazioni e poi soprattutto per i bambini. Insieme al Settembre al Borgo, al gruppo teatrale Pasquale Petrizzo, attivamente a Ollus di Sassano, a Padre Pio, all'associazione di Padre Pio. Quindi siamo tutte in equip, diciamo, che stiamo facendo di tutto per, almeno per quel giorno, per il 7 di febbraio, di domenica, di far sì che i bambini stiano bene insieme, non solo tra loro, ma anche insieme a tutte le famiglie. Questo è lo scopo principale che noi cerchiamo di andare avanti in questo senso. Io voglio pure ringraziare chiaramente tutti quelli che ci stanno dando una mano e anche, ciò non me ne volete, anche a voi operatori e a voi addetti alle trasmissioni, a quelli che lavorano nella vostra televisione, perché in questo modo il pubblico sa di quello che noi facciamo, sia come volontariato e sia come impegno personale e professionale per far sì che tutti stiano bene. Quindi va anche un ringraziamento, anche a voi che siete addetti alla divulgazione del territorio. Presidente Sassano ha una tradizione del carnavale che risale a molti anni fa quando organizzava il professore Pasquale Petrizio. E infatti proprio per questo noi ogni anno cerchiamo di organizzare questa manifestazione, anche nel rispetto e nel ricordo del professore Pasquale che uno è stato uno dei primi, insomma uno, quasi il primo, nel Vallo di Diano a voler organizzare questi tipi di manifestazioni soprattutto per il gruppo teatrale che diciamo che a Sassano è stato il capostipide di tutti quanti gli altri. E quindi noi, anche per merito suo che noi continuiamo a fare tutto questo che stiamo facendo. E anche per cercare di coinvolgere quanto più persone possibile perché è una cosa che è sempre bene per il territorio e cultura. E quello che va bene per il territorio va bene penso che per tutti quanti. Ed ora una notizia di sport con inizio la lunga marcia di avvicinamento alla edizione 2016 della Gran Fondo della Tanagro in programma domenica 10 luglio. Confermato il percorso della passata edizione che ha riscosso un grande successo. Novità di quest'anno il 3 luglio la Tanagro Baby. Inizia la lunga fase di avvicinamento all'edizione 2016 della Gran Fondo della Tanagro. Memorial Pasquale a Maccapane e Franca Priore in programma il prossimo 10 luglio. La manifestazione inserita nel calendario dello Scudetto Campano 2016 e vale quale gara a Friandli del circuito Centro d'Italia e prova a Giolli del circuito del Giro dell'Arcobaleno è organizzata dal ciclo team Tanagro. Confermato anche quest'anno il percorso della scorsa edizione che ha visto raddoppiare il numero di partecipanti. Dopo la partenza da San Pietro al Tanagro i ciclisti lambiranno le mura della Certosa di Padula per affrontare la salita che conduce a Mandrano e alla sua splendida Pineta. 10 km di salita con una pendenza media al 7% e alcuni brevi tratti al 10. La seconda salita vedrà i ciclisti salire verso Magorno. 15 km di salita con pendenza media del 3-4%. Dopo la discesa da Montesano sulla Marcellana affronteranno gli ultimi 27 km di gara in pianura. I partecipanti alla manifestazione nel finale pedaleranno per diversi chilometri lungo il tracciato della quinta tappa della Giro d'Italia Professionisti, la Praia Mare Benevento. Tra le novità di questa edizione ci sarà la Tanagro Baby, la manifestazione riservata alla categoria giovanissimi che si terrà domenica 3 luglio, una settimana prima della data di svolgimento della Gran Fondo. Questa iniziativa nasce con il progetto della Gran Fondo, sottolinea uno degli organizzatori, ma nelle prime edizioni abbiamo lavorato soprattutto alla crescita dell'evento agonistico dedicato ai ciclo amatori, rimanendo la gara giovanile ma non rinunciando al messaggio che lega l'attività giovanile a quella amatoriale. Non a caso ogni anno la partenza del multicolore gruppo dei partecipanti era preceduto da Leonardo Cappellari, ciclista in erba della categoria giovanissimi che veste i colori della Velo Club Bassano 1892 e la scorsa stagione ha conquistato due successi. Da quest'anno anche le giovani leve del pedalare, concludono gli organizzatori, saranno protagoniste alla Gran Fondo della Tanagro. Con questo servizio si conclude l'edizione pomeridiana delle Uno News, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.